L'unico elemento oggi che possiamo avere, che può avere un piccolo punto di domanda, ma io voglio ancora essere, come si può dire, predisposto positivamente al fatto che non sia un problema, spero che non lo sia, è quello delle varianti. Peraltro vi annuncio che oggi abbiamo i primi due pazienti a Bassano, due indiani, padre e figlia, con la variante indiana. Ah beh, le varianti arrivano tutte, ce ne sono migliaia, non so quante varianti ci siano. Adesso avremo ulteriormente questa novità e affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, però insomma si va avanti. Qualche raguaglio di più su questa comparsa della variante indiana? Si tratta di persone ricoverate all'ospedale di Bassano? Sono cittadini rientrati dall'India, sono cittadini di origine indiana, anzi indiani, rientrati dall'India, stiamo parlando dell'Urs di Bassano, della Piedemontana, e padre e figlia, variante conferma, confermata variante indiana dall'Istituto Zooprofilattico, ho parlato stamattina con la dottoressa Ricci, il direttore. Non erano bloccati? Non ve lo so dire. I figli dall'India, no? Prego? Non ho capito, perché non vedo, sento parlare... Si, si. Si, si.